Non c'è nessuno. E poi è incinta. Ma che ci posso fare io, scusa? Anche a parte il senso unico ha preso lui, non mi ha preso io. Poi che si prende un senso unico in quella maniera quando non c'è una donna incinta. Poi scusa, cosa c'entro io? Che c'ho colpa io? Infatti, questo è un problema. È un tuo problema. Sì, ho capito, Ugo, però voglio dire lei stamattina è venuta da me qui, da no? E mi ha detto quella cosa, assassino, va bene, lei è incinta. Che colpa c'ho io? Che ci posso fare? Che ci posso fare? Questo è il tuo problema. Tu hai il tuo problema, io c'ho il mio problema. Sì, ho capito, Ugo, però ne volevo parlare un attimo un tempo, perché magari... Però che colpa c'ho io? Che ci posso fare? Che ci posso fare? E io allora? Che ci posso fare io? Io sono sentito qua, ma dico, che ne è colpa io? Sì, scusa, Ugo, si sta parlando di un altro problema, del mio problema, hai capito? Ho capito. Ecco, bravo, hai detto bene, questo è un tuo problema, te lo devi risolvere te. Che te lo devo risolvere io? O anche io c'ho il mio problema, amiche mi lo risolvi te. Se tu mi risolvi il mio problema, io ti risolvo il tuo. Scusami, Ugo, non hai capito? Ugo, guardami, guardami, ugo. Si sta parlando di un altro problema, del mio problema, hai capito? Ho capito! Ecco, bravo, hai detto bene, questo è un tuo problema. Te lo devi risolvere te. Che te lo devo risolvere io? o anche io c'ho il mio problema, ma mica me lo risolvi te. Se tu mi risolvi il mio problema, io ti risolvo il tuo. Ugo, Ugo, io ne parlo con te perché tu sei mio fratello, e siccome tu sei mio fratello. Anche tu sei mio fratello, se tu mi risolvi il problema, a me io devo risolvere a te. Forza, risolvimelo, fammi camminare, se ci riesci. Ugo, si sta parlando di un'altra cosa, hai capito? Non urlare, eh? Non urlare! No, io urlo quanto mi pare, va bene? Tu fai sempre quello che ti pare, urli quando ti pare, cammini quando ti pare, a casa non ci sei mai, e quando torni sei sempre nervoso. Senti, scusami, quante volte ti ho detto andiamo a vivere in Africa, lo sai che il caro ti fa bene alle gambe? Se io torno in Africa, io lo so, rincomincio a camminare, lo so, lo sento. Ugo, stasera si parla di me! Ah sì? Sì! Va bene, a me non me ne frega niente di te! Mettimi a letto. No, non ti metto a letto. No, 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 stasera io non ti metto a letto, si parla di me e del mio problema. Mettimi a letto. No, e guardami negli occhi quando ti parlo. Fammi passare, fammi passare, guarda che mi so di passare, io ti do il caccio e le palle, ti rovino! Forza, vai, ti porto, forza, dai, porta a letto, vieni, forza, dai, vieni, ti metto a letto, paralitico! Cattivo! La luce! La coperta! La coperta! Siedi la coperta, siedi la coperta, siedi la coperta. Accendi-mela! La scena, siedi, la scena, siedi. Speriamo che ti faccia col tuo circuito, tanto tu senti niente alle gambe. Cattivo! Cattivo te! Non si è visto andare così bene un fratello handicappato!